Siamo qui con l'Avvocato Angelo Salvemini, legale della famiglia di Matteo De Palma, vittima innocente della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. Anche se mai si è evidenziato il ruolo assolutamente straneo ai fatti del signor De Palma, si è sempre parlato solo e solamente dei fratelli Luciani. Ci può spiegare invece la figura di De Palma? Sì, effettivamente Matteo De Palma non è stato mai indicato, non è stato mai annoverato nell'elenco dei soggetti innocenti di questa strage e chiaramente credo che sia giunto davvero il momento di lanciare una sorta di monito, di fare una sorta di preghiera affinché per il futuro si parli anche di Matteo De Palma come vittima innocente se chiaramente come descrizione e definizione di innocenza intendiamo coloro che non erano i reali obiettivi dell'attentato omicidiario e quindi dell'azione omicidiaria posta in essere. E quindi poiché Matteo De Palma sicuramente non era l'obiettivo ma ha scontato solamente gli effetti della vicinanza con il cognato o meglio l'occasionalità perché Matteo ricordiamo era un lavoratore della Sofim che aveva come solito turno la notte, faceva tutte le notti e quindi la mattina a quell'ora non sarebbe mai potuto essere con il cognato se non fosse che quel giorno essendo il suo compleanno non era andato al lavoro e quindi quella mattina ha potuto prestarsi e accompagnare il cognato Mario Luciano e quindi per una pura casualità si è trovato anche lui e quindi anche Matteo non è stato, non era il vero obiettivo dei sicari e pertanto ritengo che sia pure giusto per la memoria di Matteo che venga indicato come persona innocente. E non aveva alcun precedente? Assolutamente, Matteo era completamente illibato dal punto di vista giudiziario tra l'altro viene da una buonissima famiglia, il fratello è un militare della Marina Militare e chiunque, in particolare mi riferisco chiaramente ai suoi amici e cittadini di Manfredonia lo hanno conosciuto come persona assolutamente buona e onesta. E la famiglia di Matteo come ha vissuto questi anni leggendo e vedendo che mai il proprio parente venga mai nominato appunto in queste vicende come vittima innocente? A dire il vero i familiari che io rappresento, la moglie e in particolare i figli, di questo ne hanno sempre sofferto me lo hanno evidenziato sin dai primi giorni però non con particolare insistenza e hanno capito che chiaramente l'attenzione per certi versi, lo hanno compreso, era spostata sugli altri due soggetti perché non erano in macchina con Romito Mario però ecco si è arrivato a un punto in cui è opportuno finora abbiamo taciuto ma adesso è davvero il momento di fare questa precisazione e dare giustizia anche tra virgolette da questo punto di vista a Matteo De Palma e ai suoi congiunti.